Ci vorranno almeno 60 giorni per dare un'identità certa al corpo, in evidente stato di decomposizione ritrovato nel giorno dell'Epifania sul greto del fiume Fino, in località Caparrone a Colle Corvino. Le pratiche sono state avviate nei giorni scorsi dal medico legale Ildo Polidoro, incaricato dal pubblico ministero Marina Tommolini, il quale si è occupato già dell'autopsia e di altri esami strumentali, quali TAC e raggi, esami antoprometrici e prelievi per la comparazione del DNA, finalizzate anche a chiarire le cause della morte. I pochi risultati iniziali hanno confermato ciò che il medico legale aveva dichiarato inizialmente, e cioè che si tratta di un uomo di piccola statura e che il decesso non è avvenuto più di sei mesi fa. Giorni di grande apprezzione a Bisenti, per il timore che il corpo ritrovato sia quello del compaesano Palmerino Piccirilli, qui nelle immagini di TVBIS, di cui non si hanno più notizie dal 21 ottobre scorso. «In paese ci conosciamo tutti», ha commentato il sindaco Enzino De Febis. «La comunità ha sempre sperato di riabbracciare Palmerino, ma la notizia del corpo ritrovato a Colecorvino ci ha fatto piombare in uno stato di grande tristezza. Non sappiamo cosa gli sia accaduto, ora attendiamo i risultati della comparazione del DNA per sapere o no se si tratta del nostro amato Palmerino», chiude il sindaco De Febis. «In paese si tratta di riabbracciare Palmerino, ma la notizia del corpo, ma la notizia del corpo, ma la notizia del corpo».